Il governo nelle ultime ore ha stanziato 400 milioni di euro per tutti i comuni d'Italia per arginare l'emergenza alimentare dei nostri cittadini. Noi sindaci, soprattutto del Veneto, una tra le regioni prime colpite dall'emergenza coronavirus, chiediamo di non aver vincoli di spesa perché vogliamo intervenire puntualmente su quelle che sono le esigenze dei nostri cittadini che sono diverse rispetto a quelle della Sicilia, della Puglia o della Calabria. Nessuna polemica, benvengano i fondi, ma è fondamentale che ogni sindaco possa dare risposte puntuali e precise alle esigenze della propria comunità.